I cartelli in bella vista recitano ingresso per una persona alla volta, rigidità, giusta severità da parte dei commercianti, dei negozianti che non hanno superfici sufficienti per far accedere al loro servizio più persone nello stesso momento, lunghe file come ormai siamo abituati a vedere dalla riapertura, ma sempre comunque anche tentativi di sorpasso per entrare prima spingendo con il rischio confusione e l'abbiamo registrato personalmente ma anche grazie a telefonate dei nostri telespettatori. Anche sul fronte della mascherina in molti rispettano il divieto, molti lo rispettano, molti no. Nei luoghi affollati c'è sempre il rischio che assembramenti di giovani nelle varie zone della nostra livella girino indisturbati senza protezione alcuna, come se l'emergenza fosse finita. Come non possiamo per l'ennesima volta esprimere preoccupazione? Possibile che sia così difficile rispettare le regole, eppure la libertà dell'incoscienza deve essere frenata con interventi decisi, dove si deve intervenire per chi sprezzante del prossimo getta la mascherina usata per strada o si mette insieme ad altri a girare tutti insieme. Insomma, siamo tornati indietro nel tempo, pare che non sia cambiato niente. Evidente il possibile veicolo di contagio, soprattutto se si gira senza mascherina, se si sta uno attaccato all'altro e se poi la mascherina la buttiamo a terra. Ma perché non gli danno a tutti una bella regolata? Si può uscire liberamente di casa, ma altrettanto con senso civico, rispettiamoci e rispettiamo.